Manfredo Pietrantonio e Nicolas Benzaia saranno presso due nuovi giocatori del Teramo. Dopo il tris di arrivi ufficializzati ieri dalla società Biancorossa, Calore, Milillo e Paolucci, la connection con il Pescara porterà in dote ad Antonino Asta altri due elementi in grado di dare freschezza e profondità ad una rosa che sarà quasi completamente ricostruita. Per Pietrantonio ormai sembra tutto fatto con l'esterno sinistro che dopo le esperienze a Chieti nella stagione 2015-2016 e all'Aquila la passata stagione adesso è pronto alla prima tra i professionisti con la maglia del diavolo addosso. Sarà alternativo e si giocherà il posto con Diallo in arrivo sempre dalla cantera biancazzurra per un reparto di esterni difensivi, arriverà anche Ventola, rifondato nella totalità. Per quanto concerne Benzaia discorso simile anche se il centrocampista con l'Aquila prima e col Catanzaro poi ha già messo insieme due campionati di Lega Pro. In Calabria probabilmente si aspettava di trovare maggiore spazio visto che ha messo insieme solamente sei presenze e mai è stato preso in considerazione nell'undici d'iniziale. Gli arrivi di Benzaia, Limi e Paolucci uniti alle conferme di Amadio e Ilari potrebbero dunque portare anche all'addio di Alessandro Di Paolo Antonio a cui strizzano l'occhio alcune società di Serie B, Ternana su tutte. Davanti si cercano soluzioni per Sansovini, Barbuti, Tempesti e Petrella ma con la punta romana ci sarà il confronto più delicato prima di tuffarsi alla ricerca di attaccanti che possano fare al caso di Asta visto che il modulo del tecnico di Alcamo potrebbe quasi certamente prevedere un attaccante centrale prestante e in grado di vedere la porta e due giocatori alle sue spalle che abbiano estro ma anche capacità realizzativa. Per il primo profilo si guarda a Matteo Chinellato e non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci un contatto con lo svincolato excomo per capire i reali margini di una trattativa comunque difficile vista soprattutto la concorrenza. Lunedì invece Francesco Carcalis firmerà il contratto che lo legherà al Bassano l'esterno evidentemente non ha convinto abbastanza a Teramo e il Pescara vuole fargli continuare a fare il percorso di crescita sempre in terza serie.